Un progetto che celebra il grande cuore di Emilio Ciammetti, il finanziario del soccorso alpino ucciso a causa di un investimento nella zona del Cermone. Un uomo semplice che non aveva bisogno di tante parole ma con un cuore enorme che oggi riviverà grazie al progetto appunto il cuore di Emilio. Si tratta di un progetto importante a servizio di tutta una comunità rivolto a famiglie, anziani e giovani del territorio che potranno soffrire di un servizio sociale reso possibile anche grazie alla donazione della signora Emilia Bafile, la mamma di Emilio è messa in pratica, gestita e finanziata dalla Ducca di Preturo per lo svolgimento di piccole e grandi attività quotidiane come assistenza sociale, cure mediche e istruzione. I cittadini che ne faranno richiesta avranno a disposizione un mezzo di trasporto Fiat Doblò attrezzato e condotto da volontari del settore sociale, tante le autorità nei giorni scorsi che sono intervenute nel giorno della consegna, un giorno di grande emozione perché ha permesso ancora una volta a tutti di ricordare Emilio e il suo grande cuore. Un servizio importantissimo per la nostra comunità che aiuterà tutti, persone in difficoltà, anziani, giovani, famiglie o anche ragazzi fragili, ma la cosa bella di questo progetto che abbiamo avuto l'opportunità di vedere è stata la solidarietà di tante persone che hanno chiesto di partecipare, di essere volontari gratuitamente proprio per, non solo per guidare il mezzo e molti sono anche professionisti del settore sociale, sociale e assistenziale. Tutto proprio dedicato a lui e il cuore disegnato su questo pulmino lo dimostra, dimostra il cuore che aveva lui e il cuore che doniamo adesso, che tutta la comunità dona a lui, quindi dedicato a questa grande persona che ci manca.